E Raffaele legge questo? No. Mette gli occhiali dai. Ma tanto con gli occhiali vedo poco. Questi gli occhiali mi fanno un cazzo. Ma te quel cazzo è fatto? Testa di cazzo. Stronzo. Stronzo sette volte. Stronzo, 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 stronzo. Poi? E dopo stronzo! Fermati, sciatto dico io. Raga, torni, bruschettina, la merenda del campione. Mamma mia. Non hai metto sempre un po' d'olio, no? Sì. Che ci mette? Che ci mette? L'erreo che tu sei scesa. Che ci mette? I coglioni.